Bar e ristoranti sono pronti alla disobbedienza civile. Nella giornata di oggi molti locali hanno aderito all'iniziativa Io Apro, per la quale rimarranno aperti a pranzo e a cena, infrangendo così le disposizioni del governo. Non è mai stata presentata un'indagine epidemiologica, dicono gli organizzatori, che ha certi contagi nei locali, a differenza di quanto può accadere sui mezzi pubblici e nei supermercati. Nei gruppi telegram italiani si contano oltre 10.000 adesioni e svariati solidali. Le stime reali di partecipazione però sarebbero a ribasso, dimezzando il numero di coloro che hanno aderito. L'iniziativa anti-lockdown nasce sostanzialmente dal basso e non dalle associazioni di categoria, che anzi invitano al rispetto delle regole. L'Abruzzo però sarebbe contro tendenza. Bar e ristoranti abruzzesi sarebbero stati tra i primi a dissociarsi dalla protesta. Il prefetto dell'Aquila, Cinzia Torraco, ha fatto un appello al senso di irresponsabilità degli operatori di categoria. L'unica via d'uscita da questa situazione, ha detto il prefetto, è quella del rispetto delle regole.